Difesa e attacco restano i reparti che più urgono di completamento per il Pescara. Dopo essersi assicurato le prestazioni del difensore della nazionale ungherese Richard Gusmic del Visla Cracovia, la dirigenza del Delfino non si ferma e mantiene caldi altri obiettivi. Le prossime ore saranno decisive per lo slovacco della Roma Norbert Gjomber, una sorta di piccola telenovela. Il difensore ha concluso la tournée negli States con la squadra di Spalletti e nelle prossime ore si tornerà a dialogare col Pescara. Il nodo resta in o il calciatore decide di diminuire le pretese o il Delfino chiederà alla Roma di partecipare al pagamento. Se non si troverà l'accordo il Pescara potrebbe abbandonare definitivamente la pista e virare o sul livoriano Eloge Yao dell'Inter che lo scorso anno ha fatto benissimo a Crotone o su un nome nuovo sul taccuino del DS Leone, l'uruguayano del Torino Gaston Silva. Il primo potrebbe rientrare in una più ampia operazione con l'Inter che comprende il centrocampista Gnocuri e il principale uomo mercato biancazzurro Valerio Verre. Gaston Silva è il nome dell'ultima ora, accessibile quanto a ingaggio potrebbe trovare stimolante l'esperienza Pescara visto che a Torino è chiuso da giocatori più esperti. Difensore peraltro duttile, centrale, che però nasce come terzino sinistro. Per l'attacco invece il nome ora più caldo è quello di Marcello Trotta del Sassuolo. Il tecnico Di Francesco lo ha spedito in tribuna nel return match di Coppa con Lucerna e aspetta un rinforzo di spessore in avanti. Un arrivo che libererebbe l'ex Avellino che prenderebbe la direzione dell'Adriatico visto che l'accordo tra giocatore e Pescara già c'è. Odolo vorrebbe subito anche perché per la prima guerra ufficiale di sabato prossimo in Team Cup Manai è squalificato e al momento sarebbe sostituito dal solo Nicastro. Si allontana Gonzalo Bergessio, l'argentino dell'Atlas Guadalajara guadagna troppo e non esistono dunque i presupposti per una chiusura positiva della trattativa. Sul fronte delle uscite è vicinissimo l'accordo tra Pescara e Frosinone per l'approdo in Ciociaria del terzino Antonio Mazzotta. Il portiere Simone Resti potrebbe finire in Lega Pro all'Olbia probabilmente dopo essere stato acquistato dal Cagliari che lo girerebbe in prestito alla compagine nord isolana.